Amici ben ritrovati nella nostra rubrica sui dialetti, problemi dialettali e quant'altro. E appunto oggi parliamo di quant'altro, ma meglio dire di altro, però che riguarda sempre il nostro caro amato Abruzzo. Oggi voglio sfatare quelle versioni proprio stupide, puerili, senza nessun riscontro storico, che fanno derivare il termine Abruzzo, quindi abruzzesi, forte e gentile, dalle più disparate argomentazioni. Io invece vi voglio chiarificare questa situazione e ve la dico immediatamente. Il termine Abruzzo, forte e gentile fu coniato da Primo Levi, uno scrittore, nel 1883, quando scrisse appunto una raccolta di storie nel suo viaggio in Abruzzo, e la chiamano proprio Abruzzo forte e gentile. E io per farvi capire il significato proprio che lui dava al conio di questa parola, vi leggo un breve passaggio di Primo Levi. Va nella nostra lingua tutta in se stessa semplicità ed efficacia, una parola consacrata dall'intenzione degli onesti e a designare molte cose buone, molte cose necessarie. E la parola è forza. E però, se detto e si dice il forte Abruzzo, va nella nostra lingua tutta in se stessa comprensiva, eleganza, una parola che vale a comprendere, definendole tutte le bellezze e tutte le nobiltà. E la parola gentilezza. E però, dopo aver visto e conosciuto l'Abruzzo, dico io, Abruzzo forte e gentile, visto e conosciuto. E infine afferma. E però, dopo aver visto e conosciuto l'Abruzzo, ho detto e ripeto, Abruzzo forte e gentile. Questo, punto, è il motivo per cui l'Abruzzese e l'Abruzzo viene definito forte e gentile. Da Primo Levi che ne scrisse. Quindi, se volete, lo potete acquistare anche online. È una serie di racconti nel suo viaggio alla fine del 1800, insomma, nell'Abruzzo. Ok, non lo sapevate, in mo' lo sapete. Ciao amici, alla prossima!